La nostra azienda nasce nel 2002 e come produzione di prodotti semilavorali per il mondo. Nel 2004 e 2005 abbiamo avuto un boom nella produzione di ciligino semisecco andando ad avere dei clienti in tutto il nord Europa e alla fine nel 2006 ci troviamo con una nuova linea di produzione di salse pronte di pomodorino e ciligino. A questo punto ci attrezziamo nella prima fase come potevamo ma in una seconda fase abbiamo visto che c'era l'esigenza da parte dei nostri clienti di avere una certa grande fornitura di bottiglie di salsa e a questo punto grazie a questo PSR 123 ci siamo dovuti attrezzare perché ci ha dato una marcia in più all'azienda in quanto siamo riusciti a dare le nostre forniture ai nostri clienti senza alcun problema. Oggi ci troviamo con una produzione di circa 24.000 bottiglie ora grazie a questo investimento, a queste macchine che sono state finanziate dal PSR. La nostra azienda oggi si propone come struttura, come organizzazione di supporto alla nostra agricoltura locale dando una forza in più ai nostri produttori riuscendo a collocare questo nuovo prodotto che è il nostro pomodoro ciligino in salsa per tutte le linee nazionali e mondiali ed europee. Il fattore di eccellenza per la nostra azienda è principalmente la qualità, la certificazione, abbiamo tutte le certificazioni che nel mondo ci chiedono. Abbiamo una struttura all'avanguardia come organizzazione di pulizia, struttura moderna, le norme oggi ci chiedono sulla qualità ci intestiamo e garantiamo al 100% i nostri prodotti con una linea moderna all'avanguardia secondo quelle che sono le aspettative di tutti, produzione e consumatore. Il nostro obiettivo è quello di creare, dal momento in cui il mercato ce lo consente, creare una linea di grigliati surgelati, vogliamo completare nelle nostre linee l'ultimo ciclo che è il packaging e l'ultima fase che è veramente la palettizzazione e riuscire veramente ad abbattere i costi di produzione per essere competitivi nel mondo. Il nostro obiettivo è il nostro obiettivo,